Li ritroveremo insieme il buon Christian De Sica e il simpatico Massimo Boldi nel loro nuovo cinepanettone che si intitola Amici come prima. Protodotto dalla Indiana Production in collaborazione con la Medusa Film, la coppia d'oro per Antonomasia farà questo cinepanettone dove troveremo per l'appunto come elemento determinante il Natale. Sul grande schermo ovviamente andrà diciamo così in onda dopo più di 20 pellicole fatte insieme la coppia più irriverente del mondo si era andata a dividere in maniera piuttosto brusca l'ultimo film infatti risale all'anno 2005 con Natale a Miami. E da quel momento di loro tra virgolette si era saputo poco o niente ma ecco che da come trapera sul web saranno presenti entrambe nel nuovo cinepanettone intitolato Amici come prima. Che andrà in onda con ogni prova vita visto che è un cinepanettone a Natale. Grazie il video termina qua congratulazioni a Boldi e a De Sica chiaramente è bene prendere le informazioni che ho trasmesso con cautela perché potrebbero essere sbagliate di ciò non mi assumo alcuna responsabilità penale e o civile. Grazie un cordiale saluto e al prossimo video. Grazie a tutti.